Amiche e amici, 70 anni, 7 decenni, 70 anni di Costituzione italiana. Allora, sapete qual è la forma dell'Italia? La forma dell'Italia non è quella geografica dello stivale, no, non è quella. La forma dell'Italia è quella in cui appaiono indivisibili la natura, l'ambiente e l'arte. 70 anni di Costituzione italiana, articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, ma soprattutto, secondo Comma, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ma dove? Se è vero che alla fine degli anni 40 l'Europa veniva fuori dalla guerra e quindi rifioriva come un albero a primavera, su quelli che erano i simboli della modernità, l'acciaio e il carbone, oggi riconosciuti, ma anche fino a qualche decennio da, come impattanti a livello ambientale, nell'arco di sette decenni, noi l'articolo 9 ce lo siamo giocati. La cementificazione, in nome del progresso, ha divorato, udite bene, 23.000 km2 di superficie, pari all'intera Lombardia oppure alla Lucania e alla Campania messi insieme. 23.000 km2. Meglio ancora, dal 1985 ad oggi, 302 km di fascia costiera, di fascia areale costiera, ce li siamo giocati in nome di questa cementificazione per costruire nuove case, nuovi alberghi, porti turistici, aree turistiche, il che corrisponde a circa 50 metri al giorno. Cementificare, cioè, ha significato anche aumentare il rischio frane e il rischio alluvioni, a parità di eventi plumometrici che non sono mai cambiati, di eventi plumometrici in termini di numero e di intensità. Le piogge non sono mai cambiate, è cambiata la nostra rigidità nei confronti del suolo. Ecco perché gli eventi sembrano più catastrofici. Per detta tutela, come dice questo secondo comma, noi spendiamo solamente l'1,3% del prodotto interno lordo, che corrisponde a circa il 35-40% di quello che invece spendono gli Stati Uniti per il loro territorio e tutti i paesi importanti del nord Europa. La Cina, per esempio, ne spende circa più della metà, il 2,2%, rispetto all'1,3% dell'Italia. Ecco come abbiamo consumato, ecco come stiamo consumando la nostra bellezza. Intanto, però, festeggiamo i 70 anni della Costituzione. Allora, auguri! Buonasera, amici e amici. Alla prossima.